Musica Questi sono una palestra, come qualsiasi libro, tranne i libri pieni di sciocchezze, collezione Harmony, quella robaccia lì. Ho letto pure quelli comunque. Allora i libri, il cervello è un organo plastico dinamico, ci hanno raccontato i presunti scienziati che i neuroni non si replicano, falso, ammettendo anche che fosse vero, però i neuroni fanno una cosa in automatico appena sono sollecitati da qualcosa che ancora non hanno mai sentito. Creano nuove sinapsi. Il pensiero, come qualsiasi cosa immateriale, per trasmettersi nella materialità ha bisogno di una strada. Sono le sinapsi. Il pensiero corre attraverso le vie sinaptiche. Quindi nel momento che il cervello si incontra con un cibo intellettuale mai digerito prima, non lo sa digerire, perché non esistono nella rete sinaptica i percorsi per poter far viaggiare questa informazione. L'esempio più pratico è quando voi andate in un luogo dove non siete mai stati, vi stancate subito. Sapete perché? Perché a casa vostra il cervello ha memorizzato tutte le strade, le vie, i colori. Ci andate occhi chiusi, state parlando di rape e hamburger e arrivate a destinazione senza pensarci. Il cervello, sapete su cosa scrive il neurone? Su strati olografici, scrive ologrammi il neurone, registra tutto. È una funzione importantissima perché una volta che ha mandato a memoria nell'ardisco olografico i dati, lascia lo spirito libero per acquisire nuove connessioni. Ora lo strato olografico è magico perché contiene in sé una quantità infinita di informazioni. Se voi prendete un ologramma, lo fate in 100 pezzi, ognuno dei 100 pezzi conterrà l'intero ologramma, è indivisibile. La meraviglia del corpo umano non ne avete un'idea. Quindi all'inizio il cervello dice ma che cavolo sta leggendo l'io sono che mi sta usando? È un deficiente, lo dice spesso. E quindi incominciate a leggere, è arrivata la quinta riga, non ci ho capito una mazza. Mo' chiamo Caria, ecco non fate così, non mi chiamate. Ogni tanto si avvicinano persone, ma Caria guardi, non mi ha risposto, posso dargli un foglio? Sì dammelo, va bene. Poi apro il foglio, 25 domande. Ma 25 domande per circa quasi 300.000 persone che vedono le mie conferenze, ma forse di più perché 300.000 sono i click, ma poi quanta gente sta davanti al monitor, non lo so, a volte uno, a volte due, a volte cinque, quindi molti di più, non posso rispondere a tutti, anche perché 25 domande sono un libro, non posso scrivere libri in continuazione, ma io divulgo informazione. Quindi questi libri vanno letti a brodo, tutti e 19, leggeteli tutti, non vi fermate. Quello che non capite tirate oltre, perché così fate lavorare l'automatismo del cervello. Non vi sentite cretini se non capite, non siete cretini, siete tutti figli di Dio e siete tutti intelligenti e tutti scienziati, dovete solo acquisire la corretta informazione e fare le giuste cose per tirar fuori quell'immenso valore che c'è già in voi. Dio ve l'ha dato, gratis, non si è finanziato la BCE, vero e sicuro. Quindi leggete a brodo, leggete, finite tutto, ricominciate. Io li ho letti tutti, questi e tutti 19, più qualche altro migliaio, li ho letti tante volte, fino a che il libro non mi dice più niente di nuovo, fino a che mi dice qualcosa di nuovo, lo devo rileggere. Quando non mi dirà più niente di nuovo, ce l'ho tutto dentro e quello me lo porto via quando esco dal corpo. Su quello dobbiamo investire, va bene?